Secondo quanto si apprende in queste ore dalla stampa nazionale LDA, Luca D'Alessio si trova ricoverato in ospedale a causa di problemi di salute. A darne notizie è stato lui stesso. Buonasera a tutti. Per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l'evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo. Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto ma allo stesso tempo ho sicuro di poter dare il massimo una volta guarito, così ha scritto il cantante sui suoi canali social. Non è nulla di grave, tranquilli. A presto mori il vostro Lucchino, così ha concluso il suo post Luca D'Alessio. I fan sono adesso ovviamente in ansia anche perché i problemi di Luca non sono stati ancora resi noti. Questa sosta forzata non gli permetterà di prendere parte ai prossimi eventi in programma. Proprio negli scorsi giorni Luca era balzato nuovamente agli onori della cronaca in quanto aveva risposto ad alcune domande dei suoi fan che gli avevano chiesto quali siano le sue cantanti preferite. Tra le tante aveva fatto il nome di Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi D'Alessio. Lei aveva risposto dolcemente con ti voglio bene. Grazie a tutti.